buonasera e un grazie per l'opportunità per spiegare questa partita di oggi contro il pontinia una partita molto sentita partita uno scontro diretto una partita che decideva molto per la classifica o per l'ambizione della squadra che si può tirare fuori dalla situazione difficilissima in cui ci troviamo ma allora non la nostra stessa classifica è una partita condotta dall'inizio alla fine la prestazione c'è stata il risultato no la differenza la fa il calcio di coloro realizzato molto generoso da parte dell'arbitro il nostro sbagliato e e qui nasce un'altra partita allora si chiudono tutti dietro giocano di rimessa soprattutto poche volte la metà campo noi non creiamo grandissima occasione ma gestiamo la partita per l'intera per l'intero arco della gara non ci porta al pareggio almeno al pareggio e veramente siamo rammaticati vanno i complimenti al pontini ha interpretato bene alla gara l'amico ciencia che probabilmente l'ha preparato nel miglior dei modi ma resta l'amarezza che è un calcio di rigore generoso dato nel primo tempo al pontinia ha portato loro in vantaggio il calcio del nostro forse anche qui generoso una portata il leno al pari la partita si può racchiudere in questi due episodi e poi il resto purtroppo sono annate quest'anno si gira tutto storto prima o poi la fortuna si deve restituire qualcosa e speriamo che questo prima o poi arriva il prima possibile è